Siamo arrivando a un nuovo scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul tema delle trivelle. Ieri il Ministro Costa ha detto che non firmo, ma sembrerebbe che nella notte sia stato trovato un punto d'incontro. Lei è preoccupato? Per il governo? Per il tema delle trivelle. Se rompe il contratto penso che è una buona notizia per il Paese. Sono un sostenitore della rottura di un contratto, ma adesso mi diranno che oltre ad aver violato la legge sicurezza voglio non fare adempiere a un contratto così solido. Siamo in campagna elettorale, devono un po' far vedere che litigano perché devono prendersi più voti e vedere chi è più bravo tra 5 Stelle e Lega. Non credo a queste sensibilità che portino eventualmente a rotture. Alla fine trovano sempre la quadra perché si sono già molto abituati a una poltrona, quindi non credo. Sono preoccupato semmai del fatto che tutte le promesse elettorali a una a una non le stanno mantenendo. Terzo valico, promesse buttate nel cestino. Taranto, promesse buttate nel cestino. Trivelle per ora, promesse buttate nel cestino, potrei proseguire dalle terre dei fuochi per andare a altri temi assai noti, l'acqua pubblica e quant'altro. Stiamo per ora solamente a promesse non mantenute, questi cittadini se ne stanno accorgendo ed è per questo che il governo, secondo me nel Paese reale, perde consenso. Il che non vuol dire che c'è già un'alternativa a questo governo, anzi allo Stato, l'alternativa politica al governo non c'è ancora e noi lavoriamo perché ci possa essere al più presto, perché altrimenti sì che sono preoccupato da sindaco, da cittadino italiano e da cittadino europeo.